Oltre 5.000 agenzie di viaggio su 11.500 presenti in Italia vendono Baltour e con la convenzione Sisal Baltour offre ai suoi clienti 40.000 punti vendita in bar e tabacchi in Italia. Presentiamo alla città e all'Abruzzo questa nostra realtà societaria. Abbiamo un incremento notevole di forza lavoro, tanto per iniziare, abbiamo un incremento di passeggeri che è la nostra forza che ci consente appunto di fare questo, quindi stiamo sviluppando notevolmente la rete sia nazionale che internazionale. Come è cambiata la sinergia tra istituzioni regionali e la Baltour, che comunque è una società privata, negli anni? Beh, è un rapporto di grande collaborazione, noi veniamo da una cultura del rapporto con la pubblica amministrazione in generale, qualunque sia, perché siamo concessionari di servizi pubblici, quindi è nel nostro DNA avere la collaborazione proprio fattiva con la pubblica amministrazione. Sul trasporto regionale in questi ultimi giorni c'è stata qualche polemica e qualche dissa? No, nessuna polemica c'è stata, ci sono stati dei punti di vista che sono stati espressi. Sono stati chiariti? Sì, assolutamente. Grazie.